Buongiorno a tutti, ben ritrovati, carissimi telespettatori di Fano TV sul canale 17 come tutte le mattine alle 7 e mezzo in punto con la diretta si apre questa giornata di nuovo insieme che comincia con la lettura dei giornali, lo faremo tra poco, prima uno sguardo come sempre al santo di oggi, oggi è San Tommaso, San Tommaso Apostolo, il sole è sorto alle 5 e mezzo e tramonterà alle 20 e 54 minuti. Allora il tempo, questa è l'immagine della nostra webcam, la nostra telecamera che scatta fotografie ogni minuto dalla sede di via Paolo Borsellino, 23.4 gradi, questa è la temperatura già elevata delle 7 e 30. Oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso con al più qualche addensamento pomeridiano a ridosso dei rilievi, temperature senza variazioni di rilievo, il mare sarà quasi calmo. Per domani, sabato, la giornata si presenterà con un cielo sereno poco nuvoloso, temperature stazionari e un lieve diminuzione, i venti saranno deboli e il mare sarà poco mosso. Per quanto riguarda invece la giornata di domenica, ancora cielo sereno poco nuvoloso con temperature stazionari oppure lieve aumento, i venti saranno deboli, il mare sarà quasi calmo. Per quanto riguarda la tendenza per i giorni successivi, il tempo sarà stabile sulla regione anche per gran parte della prossima settimana con temperature addirittura in lieve, ulteriore lieve aumento. Allora oggi è venerdì 3 luglio, oggi è la giornata dedicata alla Notte Rosa e allora i giornali naturalmente ai loro lettori dà un po' gli appuntamenti, gli appuntamenti che si snocceleranno su tutta la riviera, in particolare nelle città di Pesaro, Fano, Senigallia, Marotta. Allora, a Fano c'è anche il connubio tra la Notte Rosa e il Notte dei Saldi. La Notte dei Saldi bacia la Notte Rosa, questo è il titolo di questa mattina. Negozi aperti oggi e domani sera, centro di Fano animato con musica, spettacoli, anche qualche polemica sollevata da Filippo Bacchiocchi del Comitato del Centro Storico. Questa sarà una delle ultime attività che organizziamo con qualcuno che non ci siamo capiti. Sopra la battaglia di confesarcenti, affitti calmirati per i negozi, sgravi fiscali per i proprietari, per cercare in qualche modo di riempire quei negozi, e ce ne sono sempre di più purtroppo, negozi che sono vuoti, ambienti che sono vuoti, quindi sgravi fiscali per poter far entrare nuove attività commerciali. Radio Veronica, Radio Veronica dichiarata fallita, la programmazione però continua a regolare con un'altra società. i curatori fallimentari, Brusciotti e Del Prete dovranno accertare i debiti. Però ecco, va detto che nonostante questo, insomma, la radio, la normale programmazione di musica e appuntamenti, in particolare con queste massime di vita, che questa Veronica, ragazza icona di questa radio, che dispensa consigli, racconta esperienze, eccetera, eccetera, continuerà questa sua attività. Allora, la cronaca, il processo, vede le visite in nero dell'ex primario, l'ex pediatra Gianfranco Franchi, che lavorava a Fano, visite in nero, l'ex primario cambia difesa. Il nuovo legale, il professor Lucio Monaco, ottiene il rinvio dell'udienza a novembre. Ieri, udienza preminare per il pediatra, che appunto revoca il mandato al suo avvocato. La procura ha messo sotto chiave 40 mila euro ai fini della confisca. Niente pesce fresco fino al prossimo mese. Ad agosto il fermo, infatti il fermo pesca, inizierà dal 16 agosto. Ci sono due date differenti. Quello che riguarda il fermo pesca per le imbarcazioni che sono nei porti da Trieste a Rimini, questo fermo pesca parte dal 27 luglio per 42 giorni. Mentre da Pesaro a Brindisi, per tutte quelle flotte lì, insomma, il fermo pesca inizia dal 16 agosto ed è sempre per 42 giorni. Tonino Giardini dice che con il nostro sistema risorse ittiche e mercato sarebbero in maggiore equilibrio. Non è stata accolta la nuova proposta di impresa pesca di vieti con zone nursery. Ambito sociale 6, i grillini hanno i documenti su presunte irregolarità. Sono stati consegnati dal Comune a Fano 5 Stelle i richiesti, i documenti sull'ambito sociale 6. Dopo le notizie circa le irregolarità nell'affidamento di alcuni servizi, oggetto di una interrogazione dei grillini e della relativa risposta da parte della Giunta. I consiglieri grillini avevano presentato formale richiesta per ottenere tutta la documentazione che dopo qualche iniziale perplessità ieri pomeriggio è stata consegnata al capogruppo Adar Omiccioli. Poi a Saltara tasse scontate in cambio dei lavori. Gli artigiani al servizio del Comune. La mozione già approvata. Dunque un albo di cittadini volontari, un elenco, un albo di cittadini volontari pronti a mettere al servizio del Comune, a mettersi al servizio del Comune e quindi di tutta la collettività locale mettere a servizio che cosa? La professionalità, la competenza. Ricevendo in cambio sconti su alcuni tributi quali l'Atari oppure l'Imu. Così come è previsto dal cosiddetto decreto sblocca Italia nel settembre del 2014. Ad Apecchio, guardate questo nonnino che ha, pensate, 110 anni. Si è rotto il femore, però è già ripartito. Cioè nel senso che è stato operato ed è tornato in piedi. Si è fatto un selfie, si è scattato una fotografia con i dottori. Vive ad Apecchio il Cavalier Dante Parlani e che ha superato appunto l'ennesima prova. Ha operato al femore nei giorni scorsi dopo una caduta accidentale. Si è ripreso brillantemente da questo intervento chirurgico. L'altro ieri è stato dimesso, non prima di aver voluto gustare un buon caffè nel bar dell'ospedale di Città di Castello, dove era ricoverato. L'esperienza è stata, questa esperienza e questa ennesima prova è stata raccontata dalla figlia Rosa che ha 81 anni. Bene, andiamo adesso sul Corriere Adriatico. La pagina di Fano del quotidiano Anconetano, il quotidiano Marchigiano. Nel mirino Aset e amministratori. Rincicotti Orciani, ieri la testimonianza di Roberto Pallotti e del capo gabinetto Pietro Celani. Ansuini parla di anomalie nelle modalità della transazione intrapresa senza nessun documento a sostegno. Nella cronaca, invece, alcuni poliziotti fuori servizio hanno bloccato un ubriaco che è stato visto alla guida di un'auto con un andamento un po' strano. Il tipico zizzag, evidentemente, di chi non ha la vista chiara e quindi un po' fuscata dall'alcol. Ebbene, con quest'auto ha accozzato un'altra auto in sosta in via della Resistenza nei pressi del bar 37 a Fano. Due poliziotti che erano lì fuori servizio hanno visto la scena, l'hanno bloccato e l'hanno fermato. Aveva un tasso alcolemico, scrive il giornale, altissimo. Poi, sulla pagina di Fano e Vale del Cesano del Corriere, si parla del 118, dei medici del 118. Superman, accordo con l'area vasta 1. Si occuperanno anche dei pronto soccorso e del trasporto dei pazienti. Come dire, Superman, perché Superman faceva tutto lui. Quindi, un po', come dire, dovranno fare tante cose in base a un accordo siglato il 29 giugno con questo protocollo attuativo che è ancora da redigere eppure il contenuto di questo provvedimento adottato dall'area vasta 1. Qui vedete la dirigente Maria Capalbo per i medici della POTES è entrato in vigore dal 1 di luglio. Dunque, la doppia notte nella città della Fortuna, la città di Fano, alla novità del grande evento rosa si aggiunge la tradizione in centro storico della festa per l'apertura dei saldi. Anche perché la notte rosa probabilmente si svolge lungo la costa e quindi anche per fare, per equilibrare un po' le cose, insomma, per spostare, tentare di spostare un po' la gente anche nel centro storico è stata abbinata anche la notte dei saldi. I negozi saranno aperti dalle 18 alle 2 di notte, le bancarelle esterne saranno addobbate con il colore rosa della Kermess, le attrazioni legate al decennale della manifestazione romagnola coinvolgeranno 9 zone. Anche Marotta, dicevamo, Marotta è pronta a questa passerella, la notte rosa dunque anche a Marotta Unita. Poi Matteo Ricci invece, Matteo Ricci accenderà a Rocca Costanza stasera alle 21.30 insieme a Luca Zingaretti che è direttore artistico del Festival del Documentario che si terrà in città nel fine settimana. La pagina di Senigallia, naturalmente anche a Senigallia la notte rosa arriva fino lì, rivoluzione alla viabilità. Dalle 8 di stasera è chiuso al traffico un tratto di via Porti-Cercolani, l'isola piedonale sul litorale, fino alle 3 di notte. Poi c'è anche la cronaca, purtroppo una ragazza di 17 anni è rimasta ferita gravemente da un'auto che l'ha travolta mentre lei era sul suo scooter, stava attraversando sul lungomare. Poi c'è un altro incidente in via Cellini, si cerca il pirata che ha investito una quindicenne. Sul Corriere di Foss... la pagina di Pesaro e Provincia ci soffermiamo su questa notizia a fondo pagina. Il consigliere regionale Gino Traversini che ha fatto un sopralluogo nei reparti dell'ospedale di Fossombrone e ha detto di essere rimasto piacevolmente sorpreso dalla dotazione diagnostica del nosocomio di Fossombrone che ha in dotazione un mammografo digitale di nuova generazione telecomandato per fare raggi, tac, a 4 strati ed un ecografo. Poi ha parlato anche della dialisi che verrà ultimata per un importo di circa 400 mila euro con la dotazione anche di nuovi reni artificiali, così il servizio di endoscopia e la piccola chirurgia programmata. Andiamo sul messaggero perché dalle Marche, la Banca delle Marche chiede 282 milioni di danni a chi ha governato, chi ha diretto, gestito l'istituto di credito negli anni scorsi, quindi gli ex vertici e alla società di revisione. Causa civile pendente al Tribunale di Ancona, citati in 31, illegale Leonardi contro la vigilanza. Errore o dolo nei controlli? Poi la Boldrini, la Presidente della Camera, ripartiamo dal modello MAR, che la Presidente incontra oggi Luca Ceriscioli in Regione, bene la scelta di genere per la Giunta e l'impegno per l'economia di mettere tre donne, la scelta di genere, insomma parliamo questi... Vabbè, tre donne e tre uomini. Puntando su innovazione e ricerca, dice Laura Boldrini, si può rilanciare una formula che ha portato benessere, ma che è andata in crisi. Ed amore. Blitz contro l'ombrellone selvaggio, se andate in spiaggia e frequentate... Oddio, è vero che a Fano di spiagge libere c'è rimasto ormai niente, cosa c'è di spiagge libere? Vabbè, comunque, se trovate un pezzettino di spiagge libere, sappiate che non dovete tenere piazzato lì l'ombrellone durante la notte, perché ogni tanto, giustamente, la Capitaneria di Porto fa dei blitz, come è successo a Sottomonte, l'altra notte, all'alba anzi, c'è stata questa operazione spiaggia libera, Free Beach, la Capitaneria ha sequestrato tanti ombrelloni, tante attrezzature da spiaggia, poi, ovviamente, la mattina, quando sono arrivati i bagnanti, questi si sono arrabbiati, e i turisti che alloggiavano nei camping, stessa cosa. Il comandante, però, giustamente dice, quel tratto è libero e chiunque deve fruirne, non è che uno arriva lì, piazza l'ombrellone, e ci resta per tutto il tempo della vacanza. Non è giusto, quindi è bene quello che, questa regola è giusta, quindi è una legge che va fatta rispettare. Allora, Gambini, il sindaco di Urbino, ieri abbiamo detto che era andato a cena ad Arcore, da Silvio Berlusconi, stamattina racconta ai giornali come è andata questa cena, in sostanza, la cena con Silvio, estempera poi gli animi. Il sindaco dice, le forze di centrodestra, se sono unite, possono competere con quelle del centrosinistra, ma con i verdi è ancora polemica. La vice Crespini rimarca, non c'ero a questa cena, e oggi in consiglio si legge il presidente. La provincia, invece, di Pesaro-Urbino, dopo aver letto quello che ha scritto e che ha dichiarato l'onorevole Cecconi del Movimento 5 Stelle ha deciso di querelarlo e dunque Viale Gramsci, dove ha sede la provincia, appunto, querela il grillino Cecconi. Il direttore generale della provincia, Marco Domenicucci, ha infatti annunciato che l'amministrazione sporgerà a querela contro il deputato del Movimento 5 Stelle, che nell'ultimo periodo a più riprese ha attaccato amministratori e dirigenti dell'ente per presunte irregolarità nei bilanci degli anni scorsi. Chiudiamo con la pagina di Fano. che apre con i saldi. Negozianti alla testa dei saldi pronti a rompere il comitato. La festa delle svendite che segue la notte rosa sarà il banco di prova. Il segretario Bacchiocchi di Apriamo il Centro dice ci siamo accollati un impegno enorme, ora dovremo decidere se proseguire o fermarci. Però è anche il caso, adesso non mi riferisco a questa cosa in particolare, però tutti che piangono, tutti si mettono a organizzare cose, tutti organizziamo cose, però poi organizziamo le cose senza avere i soldi nella cassa e tutti a piangere se poi il comune non dà il contributo. Allora, il comune ha tanti altri problemi, tutti quanti abbiamo tanti altri problemi, chi si mette a organizzare le feste deve anche preoccuparsi di avere i soldi per realizzarle, non pensando che poi il comune tanto qualcosa ci darà, perché il comune in questo momento ha tante cose a cui pensare, quindi evitiamo poi di fare i piangistei. Basta, tutto qua, non c'è altro. Ci fermiamo qui, ci vediamo stasera in diretta per seguire le prime fasi della Notte Rosa. Vi ricordo anche che, a proposito di diretta, oggi alle 16, in collegamento da Piazza San Pietro, seguiremo un evento molto bello, importante, l'incontro di Papa Francesco con il movimento del rinnovamento nello spirito, che anche nella nostra regione, nella nostra provincia, ha una forte adesione a tante persone che appunto ne fanno parte. Allora stasera alle 4 del pomeriggio, oggi pomeriggio alle 4, trasmetteremo in collegamento diretto con San Pietro questo importante evento. Dopodiché, come dicevo, 20 e 30, appuntamento con il nostro telegiornale in diretta, vedremo le prime fasi, seguiremo le prime fasi di questa Notte Rosa. È tutto, buona giornata a tutti voi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.